E' quello che serve, è indubbiamente quello che serve. Noi abbiamo un paese dove le tasse sono una zavorra per gli investimenti delle imprese, sono una zavorra per i consumi delle famiglie, sono una zavorra per la nuova occupazione, visto che sulla nuova occupazione gravano imposte molto pesanti. Occorre ovviamente tenere conto delle delicate compatibilità di bilancio, non sarà solamente uno show fiscale, occorre una grande revisione della formazione professionale, del sistema della scuola, del sistema delle imprese, anche delle leggi sul mercato del lavoro, perché continuo a ritenere che la legge Biaggi fosse assai più utile che non il Job Act approvato dopo. Però certamente partire con una riduzione fiscale è il miglior modo storicamente accertato per dare una scossa all'economia e su questo nel centro-destra siamo tutti d'accordo.